Mister Lucarelli, prime ore in rosso-nero, il volto è visibilmente emozionato, questa intervista la facciamo in quello che da oggi sarà il suo habitat naturale di fatto, ci racconti lei queste prime ore sulla panchina del Lanciano? Diciamo che è cominciato due giorni fa e l'emozione è salita piano piano e fino ad arrivare oggi qui a questo stadio molto importante dove racconta già tanta storia e speriamo che racconti un po' anche del futuro a breve, a fine stagione. Mister, le aspettative sono importanti, un allenatore che ha alle spalle due campionati di eccellenza vinti e altri risultati illustri, sente anche un po' la pressione? Sinceramente la pressione no, però è una vetrina molto importante, è una stagione molto importante per me, per la squadra, per la società, quindi bisogna essere molto concentrati, molto con i piedi per terra e capire che è sempre difficile vincere un campionato. Vengo in una situazione un po' particolare perché in passato subentravo in situazioni di difficoltà e in realtà adesso subentro in una situazione dove le cose andavano molto bene, dove c'era stato un bravo allenatore che ha vinto due campionati e vincere non è mai semplice. Si è creata questa situazione come purtroppo nel calcio si succede e io faccio anche questo di lavoro, lo faccio perché mi diverto, mi piace, ho tanta passione e ho preso al volo volentieri questa opportunità perché credo che sia una piazza fondamentale. E' un passaggio fondamentale per me ma per tutta la società che ho capito vuole crescere, ambiziosa e vuole risalire il più possibile. Le ambizioni di mister Lucarelli prima di arrivare a Lanciano erano quelle di allenare in categorie superiori, ci sono stati degli approcci con delle categorie superiori oppure una volta arrivata la chiamata del Lanciano non ci sono stati dubbi? No, è chiaro che io ho aspettato un pochettino che le cose si sistemassero a Chieti perché ci sono stati problemi societari, però questa attesa ha fatto in modo che io rifiutassi un po' di qualche situazione di Serie D, subito qualche situazione di eccellenza. Quando poi le cose sono precipitate lì a Chieti verso altre situazioni, quando c'è stata la chiamata del Lanciano non ci ho pensato un attimo perché credo che Lanciano meriti veramente un non rifiuto, credo che è difficile poter rinunciare a Lanciano. La categoria non conta nulla perché è l'ambizione che secondo me è la voglia e il progetto che deve valere in queste scelte. Mister, qui dietro abbiamo la curva sud Ezio Angelucci, ha sentito subito il calore della piazza in queste prime ore? Sì, tanto perché poi ho visto delle partite importanti pure qui a Lanciano e so che significa aver vissuto, visto calcio, so che la piazza è molto esigente, è di Palatofino perché ha visto fino a poco fa calcio vero, quello veramente vero e quindi io posso solo crescere, imparare qui e capire quello che i tifosi vogliono, che noi dobbiamo dare in mezzo al campo, che noi dobbiamo rappresentare in Abruzzo perché in questo momento è un campionato regionale e Lanciano è in assoluto la squadra più importante ma non solo dell'eccellenza, quindi non dobbiamo commettere l'errore di pensare che è di passaggio, ma deve essere un campionato vissuto in maniera molto passionale perché nessuno ci regalerà nulla, ma noi lo sappiamo e dobbiamo dimostrarlo sul campo di avere questa maturità. Non deve essere un fardello chiamarsi Lanciano, ma deve essere veramente uno sprono per dare il massimo. Che idea si è fatto sul campionato di eccellenza in generale per quanto riguarda la nuova stagione e a questo punto anche sulla Rosa, visto che comunque c'è stato il primo approccio anche con i ragazzi, ci saranno dei rinforzi? Io con la società comunque ho parlato, conosco molto dei giocatori che ci sono, conosco bene anche altri giocatori e delle altre squadre, ci sono delle squadre che si sono attrezzate, credo che Lanciano in assoluto debba avere un ruolino diverso dalle altre, però bisogna avere una mentalità importante e deve essere un vantaggio il fatto di chiamarsi Lanciano, non può essere una difficoltà, un essere preoccupati di chi viene a vedere le partite, ma deve essere veramente entusiasmante, deve essere un fortino qui e capace di andare a vincere le partite fuori casa. Per quanto riguarda la Rosa, io comunque ho parlato un po' con la società, ho detto che ho bisogno di tempo per conoscere tutti, la squadra mi sembra già una buona squadra, quindi in questo momento ho dato delle piccole indicazioni, ma l'indicazione principale è guardare adesso, osservare, guardare bene i ragazzi, vedere se ci sono delle cose a cui è giusto dare attenzione e con calma scegliere le persone giuste eventualmente da chiamare, da portare qui a Lanciano, però in questo momento sono soddisfatto di quello che c'è, strada facendo mancano ancora 15 giorni circa all'inizio del campionato, che è la cosa più importante, poi un campionato lungo, io dico sempre che bisogna stare a dicembre nel gruppo, a febbraio-marzo si decidono poi i campionati e lì dobbiamo essere pronti. Due peculiarità, il Lanciano non ha mai perso tra le mura del Biondi da quando è arrivato De Vincentis su tre competizioni, mister Lucarelli ha un rendimento di trasferta abbastanza importante, quantomeno per l'ultimo campionato, se non ero addirittura anche meglio in trasferta che in casa, potrebbero sposarsi al meglio queste cose e fare veramente il massimo sotto tutti i punti di vista? Sì, l'anno scorso è stato un po' atipico però c'era un problema oggettivo di un terreno di gioco dello stadio a Chieti impraticabile, quindi le squadre avversarie venivano facilmente a difendersi, a chiudersi, noi facevamo fatica a costruire ma era diventato veramente un assillo per tutta la squadra, la dovevamo recuperare fuori casa e ci siamo riusciti bene, il fatto che Lanciano sia un fortino, sia fino adesso è stato così, va benissimo, bisogna continuare su questa strada, è chiaro che prima o poi si perde, l'importante è rivincere quella successiva.